Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui gli ausiliari del traffico potrebbero essere spostati dall'AMAT, società partecipata da cui dipendono, all'Infrataras. Mi domando che senso abbia una cosa del genere, perché l'Infrataras, detto papale papale, che ci azzecca con gli ausiliari del traffico? L'Infrataras si occupa di servizi di manutenzione, non vedo quale sia il nesso, ma sugli ausiliari del traffico ci sarebbe molto da dire. Certamente andrebbe migliorata la propria posizione anche economica, è assurdo che siano fermi al parametro 138 come trattamento economico. Ci deve essere un adeguamento economico negli anni, sono stipendi molto bassi a mio avviso. E' allora una idea, quella per esempio, di far sì che gli ausiliari del traffico vengano internalizzati proprio come dipendenti del comune di Taranto. In questo modo, uno, gli ausiliari del traffico avrebbero una maggiore stabilità, dall'altro sarebbe il comune stesso a risparmiarci. Quindi internalizzare i dipendenti, gli ausiliari del traffico. Quindi altro aspetto che si aggiunge al miglioramento del parametro 138 dell'adeguamento. E anche in questo senso, proprio per favorire una loro migliore posizione economica, dar loro altre, ampliare la sfera di competenze, peraltro competenze previste dalla legge, quelle per esempio relative alla possibilità di emettere sanzioni. Penso che so, giusto per fare un esempio, le auto in doppia fila e quant'altro. Tutta una serie di elementi che favorirebbe un loro miglior impiego, maggiori risultati per la collettività e un miglioramento economico che gli stessi meritano. Ma per concludere, davvero questa voce del loro passaggio all'Infra Taras mi sembra proprio una cosa che non ha né capo né coda e non è una favola quella che mi è giunta. C'è qualcosa di vero dove c'è fumo, c'è arrosto, si dice anche. Da consigliere comunale verificherò se la cosa è a fondamento e soprattutto mi batterò perché gli ausiliari del traffico o restino all'AMAT o meglio ancora vengano internalizzati come dipendenti del Comune di Taranto ma non certo mi batterò contro il loro passaggio ad Infra Taras. Parola di Luigi Abate, consigliere comunale di Taranto. Parola di Luigi Abate